Il mondo della ristorazione messo in ginocchio dalla grave condizione creata dal Covid-19 sta cercando di trovare delle possibili soluzioni per la ripresa del comparto in sicurezza. A quasi un anno dal primo lockdown il settore sta pagando le chiusure continue e reterate. Per questo motivo gli operatori chiedono tavoli di confronto per dare risposte e possibili soluzioni all'intero comparto. Attraversiamo un periodo di grande sofferenza ed è necessario avviare delle approfondite riflessioni. Il comparto di ristorazione naturalmente soffre delle chiusure che ad oggi sono molto prolungate e si interroga proprio per questo motivo sulle possibilità reali che si hanno di poter tornare al lavoro anche al minimo regime e di tenere insieme il mondo del lavoro e il mondo della sicurezza, anche della gestione sanitaria che ci ha visto in prima fila nella riorganizzazione di tutti i nostri servizi. Questo non è bastato, vogliamo capire se vi sono ulteriori step da percorrere per tornare al lavoro. Da questo punto di vista le azioni di riflessione naturalmente non possono essere travisate perché non sono contro nessuno, non hanno una caratterizzazione di indirizzo politico ma più che altro sono sviluppate a tutela di un'impresa molto estesa, di un mondo imprenditoriale molto esteso e ramificato che vede scivolare nella sofferenza economica migliaia e migliaia di famiglie sul nostro territorio. È giusto dunque valutare se vi siano forme capaci di accelerare l'iter, di pervenire ad una soluzione concreta e per questo siamo a disposizione anche delle istituzioni per avviare le opportune attività di confronto.